Continuano le iniziative della Prefettura di Caltanissetta, volte a garantire che l'attuale stagione estiva, ormai giunta al culmine con l'approssimarsi della ricorrenza del Ferragosto, si svolga in una cornice di sicurezza sull'intero territorio provinciale. Il Prefetto, lo scorso 9 agosto, ha presieduto una nuova riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, esteso anche alla partecipazione del Comandante della Polizia Stradale, finalizzata a decidere la migliore strategia operativa per affrontare le problematiche connesse alla vigilanza nel periodo estivo. In particolare, il Prefetto ha evidenziato l'esigenza di assicurare su tutto il territorio provinciale la massima visibilità e presenza, attraverso un'azione sinergica tra le forze di polizia e il personale delle polizie locali. Massima attenzione è stata prestata alla necessità di intensificare i servizi di vigilanza e controllo dedicati al flusso veicolare, soprattutto sulle reti litoranee sia statali che provinciali. Inoltre, il Prefetto ha sottolineato l'esigenza di rafforzare i controlli durante i weekend per evitare che si mettano alla guida di veicoli persone in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il Prefetto sul punto ha richiamato l'attenzione degli amministratori locali a garantire mirati controlli lungo le zone litorane maggiormente interessate dalla movida estiva per contrastare il fenomeno dei parcheggi disordinati e regolari che spesso si rivelano un ostacolo alla sicurezza della viabilità ma anche di intralcio a eventuali pubblici soccorsi. Inoltre, massima attenzione alla pubblica sicurezza e alla prevenzione della cosiddetta mala movida, anche attraverso il rafforzamento delle misure volte a garantire il circuito legale del divertimento. L'attività dei controlli amministrativi si è sviluppata soprattutto nei diversi luoghi di ritrovo di giovani, con particolare attenzione all'attività di intrattenimento musicale, sia in città che nella provincia, allo scopo di prevenire e contrastare eventuali cattive abitudini come il consumo di bevande alcoliche da parte di minori di 18 anni. Inoltre, sono state controllate numerose attività commerciali in assenza delle autorizzazioni previste per legge e presso le quali si è appurato l'impiego di personale privo di irregolare contratto di lavoro, un risultato certamente da sottolineare, merito dell'articolata e sinergica strategia operativa messa in campo in questa prima parte della stagione estiva e che dimostra il grande impegno delle forze dell'ordine.